cari sui fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore ci ha costuditi questa notte e ci dona una nuova giornata tutto il dono suo a lui salga ogni lode gloria ogni gratitudine salga dal nostro cuore alla bontà infinita di dio che tutto ci largisce per puro amore e col salmista vogliamo dire signore tu mi scruti e mi conosci tu conosci quanto mi siedo e quando mi alzo intenti da lontano i miei pensieri osservi il mio cammino e il mio riposo che sono note tutte le mie vie dove andare lontano dal tuo spirito dove fuggire dalla tua presenza se salgo in cielo la tu sei se scendo negli inveri eccoti se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare anche la mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra se tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre io ti rendo grazie hai fatto di me una meraviglia stupenda meravigliose sono le tue opere e salmista conclude dicendo guarda signore se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita e il signore questo lo fa fratelli attraverso la sua parola con suo santo spirito lui si rivela e ci comunica la sua parola che lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino dice il salmista quanto amo signore la tua parola la vado meditando giorno e notte essa è tutta la mia gioia oggi la chiesa fratelli ricorda un grande padre della chiesa san girolamo nato in dalmasia nel 347 dopo cristo da giovane cercò la verità andò in oriente dove fu battezzato dove fu anche ordinato sacerdote e tornato a roma divenne segretario del papa san damaso e lui si appassionò alla parola di dio tanto che volle tornare in palestina dove insieme con un gruppo di donne che siano dedicata all'ascetismo alla vita monastica e con loro fece vita comune e spese di tutto il suo tempo nel rivedere la parola di dio nel tradurre in latino gli antichi testi della scrittura si rifugiò a betelemme nella grotta dove era nata gesù lì c'è ancora oggi una sezione che chiamata grotta di san girolamo e dove ci sono anche delle tombe dedicate ad alcune delle donne sante donne tra cui santa paola che l'avevano seguita e lì san girolamo si dedicò alla revisione dei testi della scrittura e a scrivere i testi poi di commenta sulla scrittura naturalmente aveva bisogno di testi originali cosa non facile da reperire allora lui con molta furbizia fece amicizia con un rabbino che gli portava i testi di notte di sera perciò lavorava di notte e le riconsegnava prima dell'alba perché non si scoprisse che questo rabbino gli prestava questi testi sacri e quello che noi chiamiamo la vulgata cioè la traduzione latina diffusa fino all'epoca del congiglio era il testo ufficiale che noi usavamo nella liturgia perché leggevamo i testi in latino bene san girolamo dedicò la sua vita a quest'opera d'amore per lui la parola di dio era vita consigliava a tutti di leggerla con affetto dice questa questa parola poi ti accarezza questa parola ti dispira perché la parola di dio è dio che ti parla non è una cosa dovremmo cambiare anche la definizione di parola di dio dio che ti parla dico si rivolge a noi dico che parla il nostro linguaggio ci istruisce e nella parola di dio c'è la ricchezza dello spirito santo tutta la sapienza dello spirito santo per questi santi hanno sempre attinto dalla parola di dio e nella sua parola gesù rivela a se stesso e lui la parola fatta carne come scrive san giovanni nel prologo del suo vangelo la parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi noi vedremo la sua gloria glorico come l'unigenito dal padre pieno di grazia e di verità perciò quando tuo fratello prende in mano la parola di dio la vicini l'ascolti la mediti tu sei in compagnia di gesù non sei in compagnia di un argomento di uno scritto sei in compagnia di gesù gesù si rivela a te attraverso la sua parola e lo dice lui stesso nel vangelo se ascolterete queste mie parole sarete davvero miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi chi mi ama osserverà i miei comandamenti e il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui cerchi gesù ascolta la sua parola vuoi vedere gesù ascolta la sua parola nutriti della sua parola allora ti nutri di lui quando gesù infatti nel vangelo dice che lui il pane vivo disceso dal cielo e che ne mangia la vita eterna fa riferimento esattamente a questo lui ci nutre con la sua parola e nella liturgia come quando celebriamo i sacramenti la parola si incontra con i segni con lo spirito si rivela all'esterno attraverso i segni sacramentali si rende tangibile ma l'anima sempre dei sacramenti ricordiamocelo è la parola di dio per questo che il concilio vaticano secondo raccomandò che quando un sacerdote distribuisce la santa comunione fuori della messa annunci la parola di dio proclami la parola così quando celebra il sacramento della riconciliazione la confessione al penitente annunci la parola perché nella parola c'è gesù e noi fratelli ci dobbiamo innamorare della parola di dio non solo ascoltarla ma anche meditarla nutrircene questa parola deve essere come avvenne al profeta ezechiele il signore gli fece aprire la bocca scusate fece aprire la bocca e gli fece mangiare la parola così avvenne a san giovanni libro dell'apocalisse signori fa mangiare la parola e noi dobbiamo costare la parola con questo spirito di nutrirci di parola e la parola dice deformare la mente la parola di dio deformare i nostri pensieri la parola di dio non è ispirata a criteri e logico umane e ispirata dallo spirito santo segue la logica di dio la potenza di dio è nella parola signore gesù disse un giorno san pietro a gesù da chi andremo tu solo hai parole di vita eterna ricordiamocelo sempre signore tu solo hai parole di vita eterna e tu sei questa parola di dio è scesa in mezzo a noi perciò gesù ci dice nel vangelo chi ascolta voi ascolta a me chi ascolta a me ascolta colui che mi ha mandato signore gesù donaci qui sta fede di saperci nutrire di te e di conservare la tua parola costantemente nel nostro cuore e di amare di vivere pensare agire mossi dalla tua parola a te gesù gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amm tu vergine santissima ti sei fatta serve dalla parola decende eccomi sono una serva del signore si compie me secondo quando hai detto secondo la tua parola e queste parole vergine santissima madre nostra farà risolvere costantemente nei nostri cuori perché impariamo a nutrirci di gesù pane vivo disceso dal cielo a pensare con lui vivere di lui vive per lui a lui sarà l'ora della gloria per tutti i secoli dei secoli amm ogni giorno fratelli cercate la parola di dio ogni giorno nutritevi di parola di dio san geronimo raccomandava la parola di dio sotto il cuscino quando vi alzate la mattina prima cosa che fate scrutate la parola e la sera prima di addormentarvi scrutate la parola nutritevi della parola oggi tanti cristiani sono anemici nella vita spirituale perché manca la parola ci sono tanti ragionamenti discorsi non abbiamo bisogno non di discorsi ma della parola di gesù e questa parola riempie il vostro cuore si assembli sulla vostra bocca e programmatela annunciatela professatela celebratela vivete sempre animati dalla parola di gesù amen